Bergamo, 15-12-2020, il dono sulla vita e la morte. Che cos'è il genio? È fantasia, è intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. E quindi se vi capita l'occasione, approfittatene con genio, intuizione, come se fosse una forma d'arte, perché la giusta protesta è una forma d'arte preziosa quanto quelle dei nostri antenati, quanto quelle dei nostri monumenti. E quando trovi il genio nella forma d'arte, lo devi mostrare. E ricordate, non sempre tutto quello che scintilla è oro, però spesso le buone idee portano frutto.